Alla giovane età di circa 25 anni io ho aperto la Divina Commedia, ho detto a me stesso, e vediamo se questo libro può nascondere qualche segreto. Come avviene nelle fiabe, nei racconti fantastici, nei libri di Tom Brown, il segreto c'era e ho scoperto qualcosa, un mistero, un racchiuso nella Divina Commedia, che ha consentito la rivalutazione del sistema aristotelico tolemaico Alla giovane età di circa 25 anni,